musica musica Signore e signori bentornati su Galalora Passport e bentornati su First Lap, il programma che vi parla di tutto quello che c'è da sapere sul mondo della Formula 1. E oggi ve lo racconteremo come di consueto con i miei ospiti Alessia Musa, buonasera. Ciao Martino, ciao a tutti. E il nostro tecnico Antonio Vedaglia. Ciao Martino, ciao Alessia, ciao a tutti. Siamo qui per commentare una gara che ha visto ancora una Ferrari imporsi sul podio, ha vinto Sainz, è arrivato Terzo Leclerc, ha sfiorato una doppietta che sarebbe stata la seconda consecutiva. Stiamo parlando della gara di Città del Messico e allora partiamo proprio dalla vittoria di Carlos Sainz in un weekend dominato, Alessia. Ma che cosa dire, è stata molto ben... diciamo che Sainz fin dall'inizio, fin dall'inizio di questo weekend sapeva di voler conquistare quella vittoria. Abbiamo già detto anche nella puntata precedente quanto lui volesse avere un'ultima vittoria in Ferrari, non è detto che questa sia l'ultima, speriamo di no, però sicuramente ha raggiunto quell'obiettivo che diceva di voler ottenere nelle gare scorse. E l'ha ottenuta in maniera magistrale direi, perché costruendo un sorpasso su Max Verstappen che sappiamo quanto è difficile da costruire, visto anche quello che è successo poi con un altro pilota che magari nomineremo dopo. E poi andiamo a parlarne, ecco qua vediamo subito le dichiarazioni di Sainz che dicevo bisogno di questa vittoria anche per me stesso. Ci tenevo a vincere almeno un'altra gara con la Ferrari e il sorpasso a Max non l'ho preparato, ero arrabbiato. Per la partenza sbagliata volevo sorprenderlo. Antonio, ce lo diceva Alessia, ma entriamo un po' più nel tecnico. Ha dominato tutto il weekend Sainz facendo vedere fin dall'inizio di poter imporsi benissimo nelle qualifiche, benissimo nella gara. Sì, assolutamente sì, anche già nelle prove inibere, però nelle prove inibere un po' tutti si nascondono, sappiamo come la mappatura motore può essere variabile e per cui può essere anche un motore con meno potenza. Però abbiamo visto un Carlos Sainz che durante il lungo tutto il weekend, praticamente dal giovedì alla domenica, era sempre davanti a tutti e non ha lasciato nulla a caso. Non ha lasciato nulla a caso nel momento in cui è andato davanti e non c'è più stato verso di prenderlo, se non forse tra l'inizio e la prima metà della gara un Leclerc che sembrava potersi avvicinare, poi in realtà è finito ben distante dal suo compagno di squadra. Restiamo in casa Ferrari perché con questa vittoria Alessia Ferrari è diventata la seconda forza del Mondiale Costruttori. Chi se lo sarebbe mai aspettato ha inizio l'anno? Inizio l'anno sicuramente nessuno, inizio l'anno è quasi per scontato che anche quest'anno si sarebbe ripetuto il campionato del 2023, cosa che a tutti gli effetti non è successa. Già a partire dalle prime gare, in realtà dopo la quinta, sesta gara, si è iniziato a capire che qualcosa stava cambiando, con tutto il caso scoppiato all'interno della Red Bull, l'allontanamento di Adrian Newey, una serie di questioni che hanno portato la Red Bull a inghietreggiare sempre di più. Come abbiamo visto... Può rimanere ferma? Non lo so, sì, in effetti, perché potrebbe essere... Ma quando è andato via Adrian Newey, la Red Bull... Sì, anche rimanere ferma, perché comunque gli altri sono cresciuti, in realtà la Red Bull o è rimasta ferma o è appunto inghietreggiata. Sicuramente chi invece sta facendo molto bene è appunto Ferrari, come anche McLaren, che ad oggi ancora ha la testa della classifica campionato, della classifica costruttori e Ferrari la sta sempre più raggiungendo. Ferrari la sta sempre più raggiungendo, noi andiamo dal nostro Antonio. C'è possibilità per Ferrari di pensare a una clamorosa vittoria del campionato costruttori? Allora, il campionato costruttori, ancora ci sono delle gare, la prossima è in Brasile, una pista che non è a favore per quanto riguarda la Ferrari, però non si sa mai, abbiamo visto anche città del Messico, non doveva essere nelle corde della Ferrari, ricordiamoci l'anno scorso, dato che comunque si correvano altitudini di più di 2000 metri e questo comprometteva molto, sia non solo la potenza della Ferrari, ma per quanto il surriscaldamento. Infatti ci siamo ricordati quanto a Leclerc, il suo ingegnere Brian Bozzi, gli ha chiesto di fare il lift and coast, gli ha chiesto di andarci piano sui freni perché si stavano surriscaldando. Infatti ha fatto un primo stint molto al limite Leclerc, quasi a litigare col suo ingegnere di pista che gli diceva di rallentare. Leclerc, parliamo secondo di lui, terzo, ha fatto probabilmente il massimo, ha alzato anche un po' il piede dopo quel clamoroso spavento che lo stava mettendo a muro proprio all'ultima curva in lotta contro Norris. Norris si poteva fare meglio, ha fatto il massimo di quello che si poteva fare? Diciamo che è rimasto molto incastrato tra i doppiati. Se non ci fossero stati i vari piloti da doppiare, magari le cose sarebbero andate diversamente, ma magari no, perché Norris comunque lo stava recuperando e la McLaren il passo ce l'aveva. Anche perché Norris si è fermato più tardi rispetto alle Leclerc, quindi le sue gomme erano più fresche e sappiamo quanta differenza ci possa essere anche di solo qualche giro su una gomma. Sicuramente il fatto che si abbia un po' rallentato dopo quell'escursione avuta nell'ultima curva nel circuito, diciamo che potrebbe essere legato un po' a uno spavento che effettivamente tutti probabilmente, tutti noi che abbiamo visto la gara l'abbiamo visto direttamente a muro. Invece è stato molto bravo a tenere la tenuta proprio in maniera clamorosa. Sì, ma infatti abbiamo visto come quando si è fermato, quando è sceso dalla vettura, sul momento non era molto contento, anche quando è andato Sainz a salutarlo, a complimentarsi con lui, si è un po' allontanato. Però poi successivamente, quando si è riconfrontato con Sainz e con Norris, si vedeva molto più contento, probabilmente perché ha capito quello che aveva scampato. E lì Antonio l'ha tenuta magistralmente e tra l'altro oltre a portare via i punti che erano fondamentali per lui e per Ferrari, sarebbe stato anche uno scontro parecchio pericoloso perché lì il muro è veramente vicino in piena accelerazione. Sì, perché l'ha persa proprio nello snap, nell'accelerazione, praticamente si poteva anche effettuare un effetto pendolo, come si vede nel drift, se la perdevano nel muro, l'hanno persa in tanti lì. Però è stato davvero bravo a mantenere la macchina, il sangue freddo e a praticamente portare la vettura tutta intatta fino alla bandiera a scarpi. Però se avere quello spavento e poi, vabbè, è rientrato in box, fare anche il giro veloce, ragazzi, ce ne vuole. Ce ne vuole, anche perché ha fatto tutto, secondo me Leclerc ha fatto proprio tutta una gara, riprendendo anche il discorso che l'ho fatto settimana scorsa, molto di furbizia. Leclerc è cresciuto molto nel affrontare la gara, non solo di impeto, ma studiando bene gli avversari. Alla fine Leclerc è stato in P2 a lungo tempo, ma perché ha sfruttato quelli che erano gli errori degli altri. È così che si vince. Certo, sono totalmente d'accordo. Abbiamo visto le sue dichiarazioni che dice, la gara sta perfetta, non potevamo fare niente di più. Il campionato di costruttori per noi è ancora aperto ed è molto importante. Ferrari giustamente ci crede, eccolo qua, il campionato di costruttori deve essere il nostro obiettivo, per voi è importante. Per Ferrari tornare a vincere il campionato di costruttori, già in queste due vittorie consecutive, insomma, lanciano Ferrari verso qualche sogno che sembrava proibito settimane fa e che ormai sembra potersi concretizzare. Per concretizzarsi, ecco la qua la classifica mondiale con Ferrari che sorpassa, Red Bull e McLaren, diciamo abbastanza saldamente al comando. Anche perché, passiamo al secondo argomento di giornata, ha un pilota, Norris, che forse non brilla per vittorie, però quando c'è da lottare e portare a casa punti, Alessia lo fa sempre. È arrivato secondo alle spalle di un Sainz che è sembrato inarrivabile, ha fatto il suo, sta facendo il suo. Sì, diciamo che la vittoria, la gara, adesso torniamo un pochino indietro, in Austria, quando si sono mandati fuori entrambi i piloti, Norris e Verstappen, battagliandosi, probabilmente gli ha insegnato qualcosa, gli ha insegnato che sorpassare Verstappen, per sorpassare Verstappen devi stare veramente molto. E devi prenderti dei rischi. Sì, devi prenderti dei rischi, però devi essere veramente con la lucidità al massimo perché in qualsiasi momento puoi fare il botto. E l'abbiamo visto con Lewis Hamilton qualche anno fa, quante volte è andata male sia all'uno che all'altro dei due piloti. E diciamo che Norris ha fortunatamente avuto quell'occasione soltanto in cui gli è andata male e le altre le sta gestendo sicuramente meglio. Verstappen, dall'altro canto, sta continuando a comportarsi in maniera da... Adesso arriviamo, adesso andiamo a Verstappen. E quindi sicuramente una crescita da questo punto di vista di Norris e certo è che se Hamilton, sette volte campione del mondo, aveva una mentalità molto forse più aggressiva rispetto a Norris, Norris sembra essere un po' più docile come pilota e forse questo è quello che spesso lo prega. È quello che gli manca, Antonio, essere un po' più aggressivo? Allora, in realtà Carlos Sainz ha fatto vedere a tutti come si sorpassa Verstappen, devi sorprenderlo perché gli ha fatto una vera e propria, tra virgolette, dicebomb, non è stata una dicebomb. Però l'ha sorpreso perché ha fatto un sorpasso praticamente inaspettato, nessuno si aspettava, era tanto lontano. Ha allungato la staccata, ha allungato la frenata, ha sorpreso Verstappen, Verstappen ormai non poteva più chiudere e l'ha lasciato andare, sapeva che le Ferrari erano superiori a lui, per cui non ci perdeva niente. Anzi, le Ferrari sono forse l'alleata della Red Bull e l'alleata di Verstappen perché secondo me Norris è il pilota che ha la vettura migliore ma non riesce a con che pensare. Gli manca sempre qualcosa, anche perché dopo dei dati che ho snocciolato e vedremo, vediamo proprio come Norris aveva il passo per vincere questa gara. Secondo me Norris ad oggi non sta sfruttando tutto il potenziale della vettura, tutto il potenziale che gli dà il team perché è davvero tanto. Anche Oscar Piastre, una gara denudente, esce nel Q3, fa una bella rinonta, però comunque punti buttati e adesso devono decidere davvero il McLaren, già dalla prossima. O puntano su Norris a farne vincere il campionato piloti o puntano sui costruttori, devono prendere una scelta perché ambedue non le possono fare. Si rischiano, rischiano di perdere entrambi, io mi ero già espresso sulla possibilità di rimonta di Norris su Verstappen che su me è nulla, anche perché semplicemente come dici tu McLaren sta buttando via. Tanti punti perché Norris ha la macchina forse più forte ma vince poco e insomma queste cose qua a fine anno pesano, bisogna pensare se ci si vuole concentrare sul... Anche l'atteggiamento, è rimasto tanto tempo dietro Verstappen, un Verstappen che era nettamente più lento delle Ferrari, ma con una McLaren che era nettamente più veloce. Sì, 12-15 in questo caso dovrebbe prevalere la voglia di vincere rispetto alla prudenza. Esatto. Parlando di prudenza andiamo a commentare quello che ha fatto Verstappen. Verstappen, io capisco, un pilota campione del mondo con una macchina in difficoltà, 20 secondi di penalità, punti sulla patente, insomma, continua a dimostrare che quando le cose non vanno come lui, sotto pressione, fatica tanto Alessia. Allora, torniamo alla questione che Verstappen rimane, il Verstappen che conoscevamo anni fa, che conoscevamo quando non dominava dando 20 secondi di distacco al secondo classificato. E' sempre stato questo personaggio qui, Max, sicuramente c'è da dire una cosa, la FIA in questo senso non aiuta perché ok che la mossa di Verstappen è stata sbagliata, ok che l'ha fatta due volte e forse per questo i due punti sulla patente ci sono, cioè sono comprensibili, però dare 10 secondi una volta e 10 secondi l'altra volta forse è un po' eccessivo. Se tu vuoi rimarcare il fatto che l'hai fatto una volta e gliel'hai fatta passare, non fargliela passare neanche la prima volta, mi sembra assurdo il fatto che... Anche perché altre volte diciamo che non sono stati così inflessibili, ma è un po' di compensazione con la settimana scorsa. Esatto, esatto, cioè delle penalità ci stanno perché comunque sono atteggiamenti scorretti quelli di Max Verstappen, però la FIA tante volte non l'ha penalizzato e i 20 secondi dati in questa gara a Max sono frutto delle non penalizzazioni di altri gara. Esatto, che non va bene. Non va bene e non è giusto neanche nei confronti di un pilota che comunque lotta per il titolo mondiale. Frasi tra l'altro importanti di Verstappen perché c'è il nostro problema, siamo troppo lenti, devo difendermi come posso con questa macchina, il costruttore è andato, come team si deve fare meglio, oggi mancava grip. Prima di commentare il fatto che Red Bull abbia un pilota solo, avevi qualcosa per noi sulle penalità a Verstappen, sbaglio? Sì, avevo preparato qualcosa per voi dicendovi che la prima penalità è giustissima perché come hanno spiegato molti altri, praticamente gli hanno dato la prima penalità perché a centro curva, all'Apex, proprio della curva, si vede proprio l'ala della McLaren davanti a quella di Verstappen. Verstappen non fa nient'altro che praticamente tirare dritto come se Norris non c'è e lo manda fuori. Tutti pensavano che dassero una penalità anche a Landon Norris perché non ha restituito il posto a Verstappen. In realtà, dato che l'Apex era davanti vuol dire per la FIA è come se lo avesse passato e non gli ha permesso di fare la curva nella maniera consentita, è lì che gli hanno dato la penalità. Il fatto è che non gli abbia fatto fare la curva nella maniera più consona e non ci vede fuori. Tecnicamente corretto. Il passo di Landon Norris su Verstappen è assolutamente corretto. È Verstappen che ha forzato fuori, c'è stato quello che ha portato alla prima penalità. La seconda penalità è veramente forse un po' troppo eccessiva, 10 secondi, io avrei dato 5-5. Come si hanno dati a Landon Norris, forse era molto più corretto dare 5-5. Però si vede che nella seconda penalità si vedono proprio le due Ferrari, praticamente all'apice della curva, una in entrata e una in uscita in mezzo loro. Si vede proprio Verstappen che tira fritto. Se l'ha detto abbastanza chiaramente le dichiarazioni post-gara, devo difendermi come posso, l'acchina non va. Lui si difende come può. Però secondo me se fosse stato un Leclerc ad attaccare in quel modo Verstappen o un Sainz, non credo che abbia fatto tutta questa resistenza. L'ho fatto perché è Orlando Norris ed è il pilota più vicino a lui. È corretto, ma da questo forse quello che dicevamo di Norris, gli manca proprio questo. Max, se deve andare via al mondiale, lo dà via combattendo. È forse quello che manca ancora. Un pochettino a Norris. Però bisogna lasciarli correre questi ragazzi. Sì, però attento, attento, perché comunque Verstappen è un pilota che ne ha già combinate. La settimana scorsa c'è stata una penalizzazione un po' così. E la FIA sta già cambiando il regolamento. La FIA già dall'anno prossimo vuole introdurre, non si sanno ancora quali norme, però queste norme di nuovo anti Max Verstappen. Adesso vengo da te, se non riesco più a farlo stare zitto stasera. Il nostro medaglio è scatenato su Max Verstappen, ma noi dobbiamo andare a vedere qualcos'altro. E dobbiamo andare a parlare un pochettino più nelle retrovie. Di Norris abbiamo parlato, del nostro Perez parliamo fra un po'. Io mi sono molto divertito a vedere la lotta Mercedes. Due piloti che erano, non potevano chiedere nient'altro perché erano irraggiungibili da dietro e non potevano arrivare agli avversari davanti. Quanto è stato bello vedere Russell e Hamilton combattere con il via libera del team in un bel duello. E Hamilton ha dimostrato ancora che insomma, con una macchina che funziona. Ti ha divertito? L'hai giudicato troppo? Ti ha fatto piacere vederli? Commentaci un po'. Sicuramente è sempre bello vedere comunque una lotta aperta come la loro. Sono stati molto bravi, molto rispettosi l'uno dell'altro. E questo è quello che ci piace anche molto vedere. Sicuramente se questo stesso duello l'avessimo visto tra Sainz e LeClepcats sarebbero impazziti. Magari sarebbero avuto qualche colpo al cuore in più. È anche vero che è una scuderia che in questo momento ha veramente popolo a chiedere. Deve farli divertire. È arrivato l'ordine, portate a casa le macchine, ma divertitevi. Esatto. E poi abbiamo visto come Russell sia molto bravo a difendersi perché comunque ha tenuto testa a, ricordiamola le sette volte cancione del mondo, Lewis Hamilton per diversi giri. Eh sì. Lewis Hamilton si è dovuto costruire questo sorpasso, l'ha pensato giro dopo giro, capendo, studiando quale fosse la difesa del compagno di squadra e quindi ci ha molto entusiasmato. Come però ci ha entusiasmato secondo me anche la rimonta di Russell e anche i sorpassi che ci sono stati in certi momenti. A Tre, per esempio, se non sbaglio era Liam Lawson. Che tra l'altro anche lui ha fatto delle difese clamorose durante la gara. Sergio Perez. Vabbè. Dico solo questo. E se vediamo qua magari parliamo un attimo di quello che è successo anche fa. Liam Lawson e Sergio Perez che mi sa che non si vogliono molto. No, credo di no. Così spesso due piedi. No, stiamo scalando sempre più indietro ma pur scalando indietro dobbiamo parlare, ne discutevamo nel next stage prima di entrare in onda che tra le prime dieci ormai noi la citiamo sempre perché stanno facendo cose straordinarie ma c'è la Haas. Antonio la Haas ormai noi ne parliamo ma è una realtà. C'è poco da dire. Hanno fatto uno con un campionato straordinario. E diciamo il primo team dopo tutti i top team. Eh sì. Perché è molto costante. Ha entrambe le vetture che portano punti. Non è un indato scontato. Entrambi i piloti, per farvi capire, Red Bull ha solo un pilota. Invece la Haas con quel duo riesce a portare punti preziosi e si sta piano piano staccando e secondo me potrebbe fare bene anche l'anno prossimo. Ricordiamoci che da praticamente due gare ha una partnership con Toyota e secondo me per il momento hanno messo solo quella ad esempio e poi l'ad esempio sembra che ne abbiamo fatto guadagnare quei decimi che gli passassero. A parte gli scherzi è una collaborazione che secondo me se portata a buon termine, a buon fine può portare delle grosse soddisfazioni al team americano. Però c'è sempre il binomio da ricordare. Haas e Ferrari condividono la maggior parte dei pezzi. Se funziona bene Ferrari. Funziona bene anche la Haas. E infatti dopo poi abbiamo visto come la Ferrari era lì davanti e l'Haas subito dietro. E l'Haas subito dietro. Abbiamo visto anche che come dicevamo è proprio la prima degli Anthony se vogliamo anche se chi sta scivolando verso gli altri è una scuderia che sembrava avere ambizioni ben diverse. Stiamo parlando dell'Aston Martin. Alessia la mettiamo un po' in confronto con Alpine. Sono le due grandi delusioni di questa nata di Formula 1? Assolutamente sì. L'Alpine cominciava il campionato con l'idea di ottenere un quarto posto. Ovviamente abbiamo visto che è tutt'altro che il quarto posto quello che stanno ottenendo. L'Aston Martin ancora peggio voleva vincere e lottare per le prime posizioni. Invece quest'anno non l'abbiamo mai vista sul podio. è sicuramente un Alonso molto deluso con uno strollo e vabbè non ha... Adesso chiediamo non ha... Lui ha qualche parolina in più in questo senso. È pur vero che se l'Alpine qualche volta qualche risultato partendo dal fondo ovviamente lo ottiene perché abbiamo visto che questa gara non è andata troppo male soprattutto per Gasly e... L'Aston Martin invece sembra scendere sempre di più. Infatti in questa gara sia Gasly che Ocon si sono piazzati prima di Stroll e Alonso. Allora su Stroll adesso facciamo esprimere la nostra medaglia. Non mi sorprende in realtà che lo sorpassino. Alonso fa un po' male vederlo così. Vedremo l'anno prossimo. Stroll è arrivato prima di Alonso. Quattrocentresino presenza per Alonso. Ho ritirato. Stroll invece ha ben pensato di rovinare tra tante virgolette la gara a Leclerc perché è doppiato. Diciamo che non si è fatto doppiare molto... Agevolmente. Agevolmente nello snake anziché mettersi da parte e lasciar passare. Ha ben pensato di star davanti ed è secondo me Enrique Leclerc ha perso un tanto di quel vantaggio che aveva su Lando Norris. Infatti se dopo andiamo a vedere... Adesso a vedere. I tempi Norris ne aveva sicuramente di più. Magari all'ultimo giro forse l'avrebbe passato. Quali secoli ma non si va da nessuna parte. Però abbiamo avuto di... Proprio tempo. Stroll poco sportivo. Proprio sportivo. Stroll andiamo come diceva Antonio a commentare i tempi. Eccoli qua. Dei nostri top driver in diverse fasi della gara. Qua parliamo con Gomma Gialla. Sainz, Leclerc, Verstappen, Norris certifica la velocità di Ferrari. Tra l'altro primo stint nei dati sono stati esclusi ovviamente il tempo di stop perché è decisamente molto più lungo e i tempi di safety car per cui sono stati annessi all'interno di questa media matematica solo i tempi che sono stati mantenuti praticamente dal settimo al pit. E infatti abbiamo visto come le due Ferrari e lì che praticamente Sainz è riuscito a costruirsi quel margine di vittoria, quel margine che gli ha permesso poi la vittoria. Infatti abbiamo visto che comunque le Ferrari erano molto vicine anche se Leclerc doveva fare molto lift and cost. Penalizzato Lando Norris come si vede ultimo perché doveva stare dietro Verstappen forse intimidito dal passare Verstappen. Se andiamo a vedere il secondo stint, quello con le gomme bianche, adesso la regia ci mostrerà, vediamo come Norris era il più veloce. E infatti per quello che mi dicevo prima Norris ha buttato un'altra vittoria, ha buttato un altro primo posto, altri punti praticamente. Sì sì, due decime e mezzo di media più veloce rispetto agli altri. Guardate la difficoltà di Verstappen. Verstappen con una Red Bull senza danni prendeva quasi un secondo al giro da Lando Norris. La Red Bull effettivamente non va più. Cioè chi se lo aspettava che le due Ferrari stavano davanti alla Red Bull e addirittura la McLaren un secondo al giro di media a Max Verstappen. Ne vedremo delle belle ma l'altra cosa che a me è piaciuta è che, e adesso parliamo anche di Perez prima di andare in chiusura, è che anche i piloti nelle retrovie cambiando gomme comunque erano competitivi e questo significa che comunque in qualche modo si sta un po' assottigliando forse quella gap incredibile che c'è stato nelle ultime stagioni rendendo tutto un po' più divertente. Tutti hanno ridotto il gap tranne Perez. Cosa succede a Perez, Alessia? Allora, Red Bull è sempre stata una macchina probabilmente costruita su Verstappen e quindi quando non va a Verstappen è chiaro che non può andare a Perez. Ma che cosa succede? Sì, che ci sia un divario così elevato, cioè sfiora l'assurdo. Quasi spiegabile. Sì, soprattutto è spiegabile dopo che per tanti anni la Red Bull ha lasciato i piloti correre nella propria scuderia, sulla propria massima, sulla propria vettura per cinque gare per poi cambiarli, per poi sostituirli con altri più giovani, più performanti. Quindi è quello che è instiegabile più che altro perché anche qui nella sua gara di casa in cui ci si aspettava molto da Perez e forse lui stesso si aspettava molto, in realtà ha fatto solo errori, a partire dalla partenza proprio che ha fatto una falsa partenza. Tra l'altro nel momento in cui è stato comunicato è stato anche in grado di dire che non era vero di ricontrollare, ma quando era palese che era almeno dieci centimetri davanti alla lina bianca. Antonio, finché andava bene a Max e si vincevano i mondiali andava bene, lo saluteremo secondo te Perez? Allora, secondo me Perez è già con un piede fuori dalla Formula 1, ahimè mi dispiace dirlo, ma purtroppo non vedo un Perez voglioso di ritornare. Un Perez voglioso di ritornare in alto sì, però in pista in realtà no, non sta dimostrando quello che è la sua voglia. Vedo un Liam Lawson decisamente molto più voglioso che gli ha reso la vita un inferno con una macchina nettamente inferiore rispetto a una Red Bull. È vero che poi Perez aveva anche dei danni, però è anche vero che con quella Red Bull almeno devi stare dietro Verstappen, non ti dico attaccato, ma massimo mezzo secondo. Quello è quello che vuole la Red Bull. È un po' quello che stava a cercare che hanno in Mercedes. Ok, i piloti non riescono a pompedere con i primi, però sono dei vicini, sono lì che se la giocano tutti e due. Questo probabilmente Red Bull lo pagherà caro perché, come ha detto Verstappen, la lotta per i costruttori sembra... E come ha detto Alessia, non si sa mai che magari finito il trittico perché settimana prossima c'è l'ultimo, Perez, la gara di casa l'hanno fatta e lo saluto e lo ha fuori a casa prima. Red Bull è spietata da questo punto di vista. Potremmo concludere in casa e poi, effettivamente... Assurdo il fatto che lui poi, nelle dichiarazioni, abbia detto, quando gli è stato chiesto se lui sentiva che questo per lui era il suo ultimo gran premio di casa, lui ha detto no, io tornerò qui l'anno prossimo e vincerò. Cioè, questo veramente è inspiegabile. Eh, lui ci crede, lui ci crede comunque... Fa più la credere, né? Credo che sia mentalità ai piloti questa, perché se un pilota inizia a pensare non posso vincere più, secondo me non... Non vedi i risultati che fa. Eh sì, no, è vero, ma c'è proprio un qualcosa che non funziona tra quando che sono le sue dichiarazioni e poi la risa in pista, sono totalmente d'accordo. Direi che abbiamo esaurito gli argomenti per una gara che comunque ha avuto tanto, tanto da dire. E allora andiamo a concludere con i top e i flop e partiamo da Alessia. Top e flop. Sì, oggi partiamo da te. Tra l'altro, di solito, ho sempre la ciliegina sulla torta. Ma va bene. Ti freghiamo, ti facciamo sempre il primo lavoro per prima. Allora, nei top sembra un po' scontato. Sì, secondo me non c'è altra possibilità tra i top, perché comunque abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche di quanto non sia facile sorpassare Verstappen e quanto lui sia stato l'unico a creare le condizioni giuste per poterlo fare e a farlo nella maniera migliore possibile. E tra l'altro, come non se l'aspettava Verstappen, non ce l'aspettavamo nessuno di noi che facesse quel sorpasso in quel momento lì. È stato spettacolare, ci ha dato tante emozioni e quindi bravo Sainz e anche per la vittoria, ovviamente. Flop, anche qui sembra un po' scontato, ma io direi Perez e forse anche un po' Lawson. Perché è vero che è appena arrivato, però da lui ci si aspetta tanto e non ci si aspetta soprattutto che abbia un comportamento come quello che ha avuto in questa gara. È vero che Verstappen non si è comportato adeguatamente, perché la lotta comunque è stata un po' sporca e ci ha rimesso Lawson. Però da lì a fargli il vito medio non è sportivo, non è sportivo, non è rispettoso. Esatto, sono d'accordo. Allora, io invece volevo fare un po' più quello esotico, diciamo così. Allora, come top ti metto Franco Colapinto per come si è presentato in questa Formula 1, ha preso questa Williams. Nel momento in cui Albon ha un po' un declino, diciamo, può stare un po' nella flessione delle sue prestazioni, sappiamo però Albon, pilota velocissimo, come Franco Colapinto non abbia preso questa squadra per mano, abbia proprio preso questa Formula 1 per mano. Sono tutti diventati quasi pazzi per Franco Colapinto. C'è un paese intero che lo sostiene e le sue prestazioni in pista non sono deludenti. Ricordiamoci che guida una buona Williams. E invece come flop io continuo e continuerò sempre a dare la Kicksauber e One You Joe. Cioè sono inguardabili. Io non ho capito... Però spari sulla goccia rossa. Spari sulla goccia rossa. E ho capito, però ne parlavamo l'altra volta la scorsa puntata. Non ti puoi presentare ad un campionato del mondo di Formula 1 dove tutti migliorano. E' vero, come su Martin, per citarne una. Vuoi vincere ma i tempi in giro lo fai. Comunque una macchina mediamente competitiva ce l'hai. Kicksauber non ha neanche una macchina lontanamente competitiva. Stanno aspettando solo l'arrivo di Audi. E secondo me la FIA dovrebbe intervenire. Come fai a intervenire? Come puoi dimostrarlo? Perché noi pensiamo che avessero guardare che funzionava, effettivamente non funziona. Dopo il cattivissimo Antonio Medaglia, vedo i miei top e flop. Io il top lo do a Leclerc. Perché tenere in pista la macchina quando va così, secondo me è il colpo del weekend. Perché comunque è tanta tanta roba. E il flop lo do a Verstappen. Perché è vero che la Red Bull non va. Però è anche vero che bisognerebbe cercare di stare un pochettino più nei limiti. Pur comprendendo e pur apprezzando il fatto come dicevamo prima. Che pur di non perdere è disposto a tutto e questo lo fa un campione. Però da un campione mi aspetto qualcosina in più. Quindi il mio flop è proprio il simpatico Verstappen. E con questa dichiarazione sinale e con le denunce che arriveranno a carico di Antonio Medaglia da Kicksauber. Non mi resta che salutare il nostro cattivissimo Antonio Medaglia. Ciao Alessia, ciao Martino e ciao a tutti. La nostra Alessia Musa. Ciao Martino, ciao Antonio. E non mi resta Martino Cardani che salutare e ricordare che questa è First Lap. Questa è Canarropa Sport. Alla settimana prossima. Alla settimana prossima.